Dopo i fasti di Coppa Italia con la Gas Sales Volley che mercoledì scorso ha staccato il pass per la finalissima del 10 febbraio battendo Brescia con un netto 3-0, è di nuovo tempo di campionato per i ragazzi allenati da Coach Botti. Lo sa bene Alessandro Tondo, ospite ieri sera a Zona Sport. Il centrale bianco-rosso ha invitato i compagni alla massima attenzione, quando domani al Palabanca, alle 18, sarà sfida contro Cisano Bergamasco. Vietato infatti sottovalutare l'avversario, anche se si tratta del fanalino di coda. Con questi avversari appunto che si rischiano i passi falsi, un attimo, un calo di concentrazione, entrare in campo con un po' di spavalderia, un po' meno concentrati sul risultato, può permettere che magari l'altra squadra guadagni dei punti che poi è difficile da recuperare, quindi questo non deve succedere, spero che io e i miei compagni non lo faremo. Oltre alla pallavolo, come ogni venerdì, spazio anche a pallacanestro e rugby. In Serie A2, infatti, la Beccheri non può fallire lo scontro salvezza contro Ferrara, in programma domani alle 18 al Palafranzanti, mentre l'Assigeko prova a staccarsi definitivamente dalla zona calda di classifica, affrontando Imola in trasferta. Per quanto riguarda la palla ovale, i Lions, al comando del girone 1 di Serie A, sono chiamati a ruggire anche al cospetto della forza del torneo ASR Milano, mentre in Serie B, il Piacenza Rugby, quarto in classifica, cercherà punti e riscatto in casa dell'Amatori Genova. Per entrambe, fischio d'inizio alle 14.30. Terza parte della trasmissione, con i riflettori puntati sul pattinaggio artistico a rotelle, discipline che nel piacentino gode di ottima salute. A rappresentare questo movimento, due tra le società più vincenti del nostro territorio, ovvero l'Epis e Gimnasium. Le repliche della puntata del venerdì sono trasmesse ogni sabato alle 21.30. Martedì prossimo, invece, come sempre, la nuova puntata dedicata all'analisi del fine settimana.